Quando avviene un episodio di impotenza, ecco che è difficile dimenticarlo, è difficile passarci sopra, andare oltre, pensare che magari questa cosa l'hai letta e sai che perfettamente gli uomini, almeno una volta, un periodo della loro vita, possono avere questo problema di impotenza. E però incominci, magari quando sei da solo, a pensarci, magari incominci a pensarci di notte, e allora ecco che fai la cosa peggiore del mondo, guardi sul web. Quando guardi sul web, i dubbi che magari hai iniziato ad avere, ecco che non diminuiscono, ma anzi peggiorano, peggiorano drasticamente. A questo punto, credimi, non devi assolutamente perdere tempo, ma non perché ci sia questa grandissima urgenza, ma perché più trascini questa situazione e peggio è. Arriveresti poi ad avere veramente un grosso problema di ansia da prestazione, di avere dei problemi nel gestire i tuoi prossimi rapporti con la tua compagna o con altre compagne, con tutte le altre persone. Cosa serve? Serve che tu trovi uno specialista, uno specialista che ti dia una buona impressione, che sia particolarmente empatico e che tu possa con lui avere un colloquio, avere un colloquio, una semplice e velocissima visita, poco impegnativa, e che lui metta a disposizione del tuo stato d'animo in questo momento, molto in ansia, molto insicuro, ti riporti la stabilità, ti dia la certezza, ti assicuro che la maggior parte dei problemi di erezione, la maggior parte delle volte nelle quali c'è un'impotenza, dipende ovviamente dall'età, ma comunque di solito basta spesso un colloquio, una bella chiacchierata con lo specialista, che lui ti trasmetta la sicurezza, ti riporti di nuovo alla tua sicurezza e ti faccia ripartire più forte e deciso di come sei arrivato sicuramente, senza farti perdere ulteriore tempo e senza farti passare dei momenti difficili dal punto di vista psicologici, dal punto di vista dei tuoi rapporti con le altre persone. E quindi abbiamo detto che il medico esperto, in funzione della tua età, delle tue malattie eventuali e anche delle tue abitudini o delle terapie, dei farmaci che stai prendendo, ti aiuterà già a iniziare il percorso di recupero e spesso volentieri, anzi, già con la prima visita avrai risolto il tuo problema. Ma se questo fosse un po' più complesso, ecco che il medico ti metterà a disposizione tutte le nuove tecniche, che sono delle tecniche che si sono consolidate nel tempo e che hanno dimostrato di essere particolarmente utili e efficaci per risolvere i problemi di deficit, di impotenza. Sicuramente una delle terapie più importanti che abbiamo sviluppato io e i medici del mio team di andrologia per aiutare a risolvere gran parte dei problemi dei miei pazienti è la terapia con il prodotto gallinico magistrale. Cioè in pratica utilizzare dei prodotti, degli attivi, è da assumere per bocca che su indicazione dello specialista, dopo la visita e dopo aver valutato quali possono essere le problematiche, ecco che vengono prescritti dal medico e fatti in farmacia e che servono a migliorare notevolmente sia la componente del desiderio, sia la componente della risposta erettiva e sia soprattutto anche la circolazione nella fase del desiderio e dell'erezione. Altra tecnica molto importante è la ginnastica peniena. che noi chiamiamo ginnastica peniena ma non è assolutamente una vera e propria ginnastica come alcuni pensano. È una terapia che facciamo a cicli nel nostro poliambulatorio, nel nostro studio, con i nostri pazienti e che serve a allenare, a ridare a tutta l'erezione, alla circolazione soprattutto del pene, i ritmi, l'efficacia, la potenza che servono per riportare la sessualità, per riportare un'erezione efficace. E quindi è indicata moltissimo per i fumatori, per i diabetici che hanno sempre problemi circolatori. È molto indicata anche molte volte per riattivare, per ridare fiducia alle persone che hanno perso la fiducia nella loro erezione con ansia da prestazione. Un'altra terapia molto interessante, molto importante che facciamo nel nostro poliambulatorio e che è simile alla ginnastica peniena ma ha un'indicazione soprattutto anche per un invecchiamento del pene e anche dei tessuti dei corpi cavernosi è la iontoforesi. La iontoforesi peniena che è una tecnica estremamente delicata, soft, totalmente in dolore che facciamo nel nostro poliambulatorio e serve proprio a ringiovanire i tessuti dei corpi cavernosi a ringiovanire i vasi semplicemente attraverso la veicolazione con uno strumento particolare di farmaci che ringiovaniscono, anti-age. E questa è una tecnica che è veramente molto indicata per i nostri pazienti un pochettino più su con gli anni o con i pazienti che sono fumatori e che quindi vanno incontro a un'alterazione sia dei vasi ma anche molte volte dei corpi cavernosi dei tessuti del pene. E quindi avete visto tre terapie, tre terapie estremamente moderne, estremamente efficaci che ci danno sempre delle grandissime soddisfazioni per i pazienti che già nel primo colloquio non sono riusciti ad avere quei risultati che avrebbe voluto avere. Ecco che con queste ulteriori tre tecniche, queste tre terapie, fatte in modo delicato, in modo soft e soprattutto nella completa privacy, come succede nel nostro poliambulatorio, in totale privacy, ecco che potete risolvere definitivamente i vostri problemi di erezione, di deficit e di impotenza con il sorriso sulle labbra e semplicemente con delle tecniche che poi vi permetteranno veramente di avere finalmente la vita sessuale che avete sempre desiderato e che farete nel tempo.